un pub qua dentro, ma poi ci saranno richieste questa è la canzone che ho scritto perché mi ero affascinato con un poster che avevo in casa mia quando avevo 19 anni, mi ero appena trasferito a Londra e non avevo tanti soldi, ero con un mio amico che non avevamo tanti soldi però fumevamo e bevevamo tutto quello che ci potevamo permettere dell'abbastanza che una sera ho fissato questo poster per forse 4 ore ero un musicista famoso jazz, Dexter Gordon, un club, credo di Chicago, un club jazz in questi posti, un posto abbastanza squalido, che sono sicuro che nella sua vita stava soffrendo cento volte più di me però aveva questo sguardo negli occhi di uno che avesse capito tutto, di uno che aveva vinto e lo invidiavo, lo guardavo per 4 ore, questa sera particolarmente, lo invidiavo perché io mi sentivo con gli occhi di un bambino che vedevo tutto, gli occhi sbagliati, nel modo sbagliato ed ero affascinato come solo uno sguardo di una persona, tipo far capire chi vuoi essere, chi vuoi essere nella vita e io da quel giorno ho deciso che volevo essere una persona con uno sguardo di uno che avesse capito tutto posso dirvi che non ho ancora capito un cazzo, però intanto sono alla ricerca di questo sguardo grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti